A questo punto però non è tutto bianco, insomma, quello che luccica, perché la regione ha tre comuni, ancora zona rossa, che sono Sant'Eodoro, Bosa e Maddalena. Bono, non Bono. Ah, Bono, esatto, ci correggono. Bono, zona rossa, ed è anche una correzione giusta. Però, come dicevi tu, è un po' una rivincita, perché l'isola, che era il focolaio epidemiologico alla fine dell'estate, insomma, è stata accusata, anche se suo malgrado, di essere la portatrice, l'untrice d'Italia, e in questo momento si riscatta passando in questa zona bianca. Il governatore chiede due cose. La prima, al Presidente del Consiglio Mario Draghi, gli dice perché non ci vaccinate tutti e un milione e sei quelli che siamo in Sardegna, in modo tale da fare, diciamo, cavie positive del vaccino di massa. E la seconda è, a questo punto io voglio i tamponi su tutti quelli che entrano. Io ieri sera sono arrivato qui alle 23, diciamo, non me l'hanno fatto il tampone.